Allora, domenica 21 dicembre, un altro importante appuntamento, di cosa si tratta? Sì, mi riparte la rassegna di Fusioni Kids, domenica 21, alle fornace del 17 e andrà in scena lo spettacolo Calina Belle della compagnia Rodisio. La compagnia Rodisio, insomma, è già stata ospite della nostra rassegna, insomma, nelle scorse edizioni e quest'anno torna con un progetto nuovo, appunto proprio del 2017. Tra l'altro vincitore del premio Hello Awards, che è uno dei premi più importanti per quanto riguarda il teatro delle nuove generazioni. È un spettacolo dato dagli otto anni in su, bambini e adulti, insomma, sono tutti indicati, ed è un lavoro molto particolare perché utilizza il linguaggio della danza. Infatti Calina Belle, diciamo, appunto è una storia biblica, insomma, una delle storie fondamentali, appunto, della Bibbia, viene svuotata, diciamo, del suo significato religioso. Calina Belle diventano due giovani, quindi come di Coppos, appunto, i due giovani che entrano nella società, che iniziano a conoscere, a conoscersi, e utilizzando la tecnica, appunto, della breakdance. Quindi avremo due giovani danzatori che utilizzeranno, insomma, questo sostegno di danza molto particolare, molto di impatto, anche in vivo, per raccontare questa storia. Quindi vi invitiamo tutti domenica, 21 gennaio, 17 gennaio.